fratelli juventini sorelle juventine ah che soddisfazione sapete perché inizio così in un modo completamente diverso dicendo che soddisfazione perché ieri quando ho fatto il pre partita ho esposto le mie teorie le mie idee sulla partita che avrei voluto vedere che è esattamente quella che stasera ho visto e molti juventini o forse finti juventini non lo so comunque non mi interessa se sono juventini o non juventini sono venuti sotto al video a commentare prendiamo tre gol ti prendiamo tre gol e generiamo pirlo e generiamo pirlo io siccome a volte ho delle sensazioni e mi sentivo che questa sera la juventus vinceva e anche bene e anche bene come risultato intendo perché il gioco ancora latita vabbè ma con betancur e rabbiu non è che vai molto lontano infatti poi quando ha fatto i cambi si è visto il cambio di marcia io sono molto contento perché quelli pseudo esperti di calcio che ragionano non si sa con che cosa non con la testa non con la testa forse con la pancia o magari con qualcosa che hanno in mezzo alle gambe no cioè fanno dei ragionamenti del bip perché ovviamente ci sono anche dei bambini che vedono i miei video quindi non lo dicono i ragionamenti del pene no quando si guarda una squadra la si deve vedere nell'evoluzione del gioco nei cambiamenti nello spirito nell'atteggiamento ora io ho visto una grande juve col barcellona barcellona tutti al barcellona scarso abbiamo ho visto una bella juventus contro il milan che un'altra squadra forte no avevamo visto la bella juventus con la lazio poi purtroppo l'abbiamo buttata nell'accesso la partita per gli ultimi dieci minuti scelerati poi questa sera signori vedere giocare chiesa e dibala insieme è una delizia per gli occhi chiesa e dibala vedere giocare così tra l'altro stasera mando un grande applauso a paulino dibala perché era febbricitante e ha fatto veramente una grandissima partita giustamente piero l'ha tolto nel momento giusto peccato che ci sono venuti i crampi a chiesa perché veramente cioè stasera chiesa poi lo vedrete nelle pagelle nettamente migliori in campo stasera la partita più anonima non brutta ma più anonima di cr7 da quando la juve e abbiamo rifilato tre pappine a milan tre pappine e a casa noi andiamo a casa con tre pappine signori questa juventus deve iniziare a capire che è la più forte nonostante il centrocampo scadente che abbiamo perché noi abbiamo un centrocampo scadente anche se diciamo la verità i due più forti i due più forti artur e kenny erano in panchina quindi caro pirlo non so se la tua è una strategia se è fortuna o se che cacchio ne so però tu non puoi continuare a mettere in campo betancur e rabiot perché betancur e rabiot si impegnano ci mettono tanto impegno ma sono grezzi le vedi sbagliano i passaggi i lanci non li fanno mai azzeccati hanno perso un sacco di palloni hanno passato la palla un sacco di volte al mina facendolo ripartire questo è un problema che dobbiamo assolutamente risolvere e che purtroppo non risolveremo a gennaio perché parati ci è stato molto chiaro abbiamo una rosa che competitiva la più forte cioè ragazzi quindi lasciamo perdere comunque al di là di questa polemica mi è piaciuta la juventus per spirito per la renegazione per voglia di giocare primo tempo alti e bassi abbiamo avuto dieci minuti bellissimi con un chiesa devastante poi ha tirato un po' i rimi in barca che sono un po' le remore del calcio di allegri poi nel secondo tempo la juventus è andata in campo e ha detto no ragazzi qui dobbiamo vincere l'inter ha perso il napoli ha perso il milan lo battiamo noi e recuperiamo i punti e recuperiamo i punti perché non si può che la juventus con questa rosa con cui con i soldi che spende per pagare certi giocatori alcuni strapagati come era vivo per esempio no o ramsey che non mi è piaciuto per niente stasera non mi è piaciuto per niente sapete che io ho un debole per ramsey ma non mi è piaciuto perché è troppo confusionario quindi con un centrocampo per me completamente assente questa sera betancur abio ramsey siamo riusciti a vincere 3 1 con il milan abbiamo fatto vedere adesso tutti mancavano sette giocatori al milan intanto per ricominciare ne mancavano tre forti anzi due rebic e ibrahimovic a noi mancavano quadrado e morata sandro non lo considero perché sennò sarei un ipocrita infatti fra botta che è scarsissimo fra botta che è scarsissimo non ha fatto rimpiangere sandro anzi anzi fra botta scarso è nettamente meglio del sandro che abbiamo attualmente o meno da tre anni quindi signori sono molto 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 soddisfatto bravo pirlo bravo pirlo che hai cambiato prima questa sera non hai aspettato troppo hai messo in campo i giocatori giusti nel momento giusto nel posto giusto kuluseschi fallo giocare di più perché kuluseschi è un giocatore che quando devi prendere in mano la partita e fai le ripartenze è devastante e si è visto nel gol poi un po' un pasticcione perché non ha non ha la gamba sulla partita si vede che molle ancora ma deve giocare fallo giocare voi mi direte ma se fa giocare chiesa ragazzi c'è l'allenatore della juventus trova il modo di farli giocare ok falli giocare chiesa tocca non me lo toccate perché come il paio ufficialmente io adesso lo lo metto a simbolo del vf la protetto chiesa veramente sta giocando in maniera divina a voglia impegno qualità ragazzi ha tirato tre volte tre volte ha fatto due gol e ha preso un palo che ancora che vibra sentite sentite è ancora là che vibra signori grande juve mi è piaciuta adesso non interessa guardate questa sera non le leggo neanche commenti quindi venite pure a scrivere cazzate non mi interessa se scrivete ma non mi interessa non me ne può fregare meno a me interessava vincere perché se tu vai a vincere milano in trasferta con la prima in classifica che non aveva mai perso veniva da 27 risultati consecutivi utili poi domenica batti il sassuolo dopo ti concentri su inter juve e vai a fare la stessa partita anzi con l'inter è ancora più facile vincere perché noi quando vediamo la maglia nell'azzurra siamo come il toro quando vede il drappo rosso quindi signori belli grande juve questa sera è inutile che tiriamo fuori alibi o scuse tra l'altro un arbitro che non mi è piaciuto per niente perché si è inventato delle punzioni allucinati per il milan teatranti perché stavano perdendo quindi volevano recuperare si buttavano lui ci cascava come un pollo allo spiedo ma chi se ne frega nonostante l'arbitro nonostante le assenze di quadradone e di morata stasera abbiamo vinto 3 a 1 al milan e zitti e muti i milanisti che stavano già cantando campioni dell'italia siamo noi col cazzo che lo vincete lo scudetto milanisti ok va bene quindi signori fino alla fine forza juve forever endeavor uber alles eternally cr7 anche se stasera un po sottotono bravo pirlo continua così continua così grazie a tutti Grazie a tutti.